Ritengo necessario e indispensabile però chiarire alcuni punti alla luce anche dell'ultimo incontro che c'è stato presso il mio studio dove il sottoscritto con il capogruppo del Partito Socialista ed il capogruppo di Ostuni che lavora ha incontrato il consigliere regionale Epifani il senatore Tomaselli ed il capogruppo ingegnere Pomes. Purtroppo l'incontro non ha sortito alcun effetto perché la delegazione autorevole del Partito Democratico seppure con cortesia e gentilezza e tentativi di coinvolgimento che potevano attenere più al mercante in fiera o a qualche altro gioco di società hanno tentato di convincerci e di coinvolgerci su una candidatura che per noi è ormai da tempo tramontata. I saggi hanno proposto il candidato Saponaro con una ragione sulla quale non ammetto assolutamente discussioni o commenti. La candidatura doveva unire il centro sinistra allargato alle forze politiche che condividessero il giudizio positivo sulla amministrazione uscente. I socialisti e le liste civiche non hanno mai detto sì alla candidatura di Saponaro quindi non hanno mai cambiato idea anzi sulla proposta che è venuta dai saggi hanno discusso si sono riuniti hanno incontrato Saponaro hanno discusso e si sono riuniti per ben sei volte e alla fine hanno espresso la loro valutazione negativa su questa proposta. L'ultima perla di questo candidato tramontato e che tra l'altro aveva suscitato grandi perplessità all'interno di tutta la coalizione di cui mi onoro di rappresentare la stima e la fiducia mentre si faceva l'incontro presso il mio studio tra le delegazioni delle forze politiche fondamentali per la coalizione del centro-sinistra saponaro pensava bene di assumere una iniziativa proponendo a titolo personale al candidato dei socialisti e delle liste civiche avvocato nicola santoro di fare un accordo dove prevedesse il il ruolo di vice sindaco per nicola santoro ora solo l'educazione la lealtà e il rispetto di nicola santoro ha portato a dire che mi pare che non fossero i soggetti ideali per assumere queste iniziative o queste decisioni magari io o qualche altro saremmo stati più simpatici ed avremmo chiesto all'ineffabile saponaro di assumere lui il ruolo di vice sindaco dell'avvocato santoro che mi pare veramente una posizione più corretta per riunire il centro-sinistra e per farlo vincere nella nostra città